I sasci, sono molto belli i sasci. Avete mai visto Amarcord di Federico Fellini, capolavoro della cinematografia mondiale, in cui c'è quella scena strepitosa, passano a prendere lo zio matto, Teo, interpretato dal grande ciccio in grassia, e lo zio matto alle tasche piene di sassi? E allora c'è la moglie del fratello che gli chiede, ma perché tenete quelle cose in tasca? E sono i sasci, si ho capito, ma sono un po' pesanti da tenere in tasca, si ma sono molto belli i sasci. Ecco, e qui mi sento un po' come, mi è presa questa cosa, ho letto questo libro, Andrea Moccia, Andrea Moccia è un geologo, un ragazzo in gambissima, ha un canale di YouTube e una pagina Facebook che si chiama Geopop, ho letto il suo libro molto interessante, è interessante come sono interessanti i suoi video, a me è venuto il tuo desiderio di imparare qualcosina, sulle rocce, poi ci ho parlato con Andrea, mi ha detto che se voglio un po' mi aiuta, mi ha detto che se voglio, mi ha detto che se voglio mi interroga, poi è come se non bastasse, quest'estate sono stato, sono stato quest'estate, al Muse, al Muse, al Museo Muse di Trento, bellissimo museo di scienze, mi aggiravo nel museo, a un certo punto c'era il reparto geologia, c'era questo campionario di rocce, io lo fissavo, tentavo così faticosamente di classificarle, di capirle, di leggerle, a un certo punto arriva una guida, che mi riconosce, diceva scusa ma tu sei Roberto Mercadini, sì, ti seguo, sempre mi piacciono i tuoi video, grazie, ma posso fare qualcosa per te, insegnami qualcosa sulle rocce, sono ignorante, puoi, sono una guida, di questo museo qui, sono una geologa, se non io chi, ecco, e mi ha fatto una spiegazione meravigliosa, meravigliosa, per cui la ringrazio ancora, non so se vede questo video, la ringrazio, ti ringrazio, proprio, di cuore, coincisa ma esauriente, chiara in modo cristallino, entusiasmante, fantastica, mi ha acceso un fuoco nel cuore, mi ha acceso un fuoco nel cuore nel senso che sono belli i sassi, cioè io vorrei fare una serie di video in cui racconto qualcosa di questi esseri che sono i più vivaci, i più vitali, i più scalmanati, ma anche i più simpatici del mondo. Le rocce, per carità, non sono delle lezioni di geologia, non mi permetterei mai, sono qualcosa di meno o forse qualcosa di diverso, sono appunto delle narrazioni, naturalmente se c'è, sono basate sulla, su questa scienza meravigliosa, la geologia, naturalmente se c'è un geologo vero si accorge che io ho detto delle inesattezze, sono prontissimo a essere corretto, assolutamente, naturalmente se le inesattezze sono troppo, sono troppe e troppo marchiane, eventualmente il video lo cancello e ne rifaccio un altro, corretto, insomma, però, però vorrei fare questa cosa qui, la chiamerei la vita esuberante delle pietre e comincerei con un punto di inizio che mi sembra abbastanza logico, abbastanza sensato, cioè le rocce magmatiche, le rocce magmatiche che nascono dal magma, cos'è il magma? Il magma è materia sotterranea, fusa, alla rinfusa, nel senso che non ha una purezza fatta di diversi materiali, varie molecole si mescolano, il magma è caotico, il magma è magmatico il magma, è fin lì, però cosa accade? Accade che stanno mai fermi, stanno mai fermi le rocce, il magma posso salire, 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 raffreddarsi e raffreddandosi solidificarsi, creare una roccia, in questo caso è una roccia magmatica, ora cos'è una roccia? Una roccia è, come dire, è fatta di diversi componenti, è una polpetta di minerali, no però polpetta non mi piace perché polpetta, sì polpetta rende l'idea del miscuglio, però la polpetta è un cibo un po' così vecchio, un po', ti dà idea di aria di famiglia stantia, le polpette si mangiano quando hai gli avanzi del giorno prima, no, la polpetta no, ci vuole qualcosa di più, stiamo parlando di rocce, è una macedonia di minerali, ecco la macedonia è colorata, è già più allegra, dolce, sì però anche la macedonia per carità è piacevole, è colorata, però non è quel frizzante, quel eccitante, voglio dire, stiamo parlando di rocce, è un cocktail, ecco l'idea, è un cocktail di minerali, una roccia, e voi direte, sì, avrei anche cercato il termine, ma ci devi spiegare cos'è un minerale, se no non ha senso, giusto, giusto, allora, un minerale cos'è? è un oggetto che ha una formazione naturale, non artificiale, non fatto in laboratorio, poi vedremo perché, poi dopo vi spiego perché, che ha una coerenza chimica, cioè è fatto di una molecola, poi per carità ci possono essere delle impurità, però sostanzialmente è fatto di una molecola, quindi tu puoi scrivere la formula chimica di un minerale, non di una roccia, perché la roccia è un cocktail, però di un minerale puoi scrivere la formula chimica, qualche esempio, ma il più semplice è il diamante, il diamante che formula chimica ha? C, solo carbonio, solo di carbonio è fatto, ma in teoria anche un candelotto di ghiaccio che ti si forma, no, e ti pende dalla grondaia in pieno inverno, è un minerale, perché è una formula chimica, H2O, no? Poi, sì, è un minerale un po' efibero, però è un minerale, se lo fai in frigo, il cubetto di ghiaccio, quello non è un minerale, deve essere formato naturalmente e non artificialmente, perché? Dopo lo vediamo. Ci sono naturalmente delle eccezioni nei minerali, cioè dei minerali particolari, per esempio dei minerali che non sono minerali, cioè sono minerali secondo la definizione mineralogica, ma non sono minerali nel senso che non hanno un'origine minerale, hanno magari un'origine vegetale o addirittura animale, esempi, sono eccezioni però esempi. C'è l'urrea, l'urrea è un minerale che si forma dall'urina e dal guano dei pipistrelli in ambienti molto molto aridi, in cui queste sostanze si disidratano, si seccano senza andare in putrefazione e in quelle particolarissime condizioni si creano dei cristalli e quei cristalli lì hanno una formula chimica precisa, univoca, questo qui CO, NH2 per due volte. Questo è un minerale animale, cioè un minerale che ha origine animale. Ci sono anche dei minerali vegetali, per esempio l'ambra, l'ambra, quella resina che viene secreta dagli alberi, quella cosa lì ha una coerenza chimica, ha una formula, poi esistono diversi tipi di ambra, però un'ambra può essere la xyloretinite, xyloretinite ha una formula chimica, che è questa qui, C10H17O. Quindi siccome ha una formula chimica, ha una molecola precisa, salvo, impurità, eccetera, è un minerale, mentre la roccia abbiamo detto che è un cocktail di minerali. Chiarimento che avevo promesso, perché deve essere di formazione naturale e non artificiale, non in laboratorio, per essere considerato minerale. C'è una serie di motivi, immagino, uno dei motivi credo che sia, perché altrimenti sarebbe un minerale anche questo. Qui ho un bicchiere di carta, che non è di carta, è di plastica, più precisamente è di polistirene, non si vedrà mai al mondo, c'è una minuscola P con una minuscola S sotto, non si vede, va bene. Quindi c'è una molecola, polistirene, allora sarebbe un minerale anche questo, sarebbe un minerale anche questo. Il pluriball, vedete che c'è scritto LDPE, vuol dire polietilene LD low density, polietilene a bassa densità, allora sarebbe un minerale anche questo, veramente assurdo, forse anche questo sarebbe un minerale, e dipende se è fatta di diversi materiali plastici oppure di un materiale solo, cioè una molecola sola, forse anche questo sarebbe un minerale, capite che questo è il motivo solo, è uno dei motivi almeno. Va bene, va bene, quindi si diceva, tu diventi a un certo punto una roccia magmatica. Naturalmente, naturalmente le rocce magmatiche non sono tutte uguali, perché per esempio può variare la velocità di raffreddamento. Allora, se il magma si raffredda con sufficiente lentezza, le fatine dei cristalli, non esistono ma è una narrazione, capite, fanno in tempo a costruire dentro la roccia dei cristalli, più tempo hanno più i cristalli riescono a fare belli grossettini. Nel caso più fortunato in cui abbiano tutto tutto il tempo che vogliono, riescono a trasformare in cristalli tutta la roccia e allora si ottiene il granito. Il granito è una roccia magmatica completamente cristallizzata, tutto è cristallo, cristalli di quarzo, cristalli di feldspati, cristalli di micchio, è tutto un cristallo, è un tetris di cristalli, è un puzzle tridimensionale di cristalli. Caso opposto, il raffreddamento è velocissimo, è fulminio, perché la lava finisce direttamente a contatto con l'aria oppure addirittura con l'acqua e allora non si riesce a creare neanche un cristallino ma in fatto dei cristalli non vogliono fare niente, non hanno tempo. E allora diventa un materiale amorfo, cioè un vetro, un vetro, per esempio l'ossidiana, l'ossidiana è un tipico vetro di origine magmatica. Ecco, però poi ci sono fra questi due casi estremi tantissimi casi intermedi, cioè di rocce in cui si formano dei cristalli belli grossi, visibili, immersi in una poltiglia più indefinita che viene chiamata tipicamente pasta di fondo, per esempio il porfido. Vedete porfido? Se non è porfido è uno di quei casi in cui caccello il video, dovrebbe essere porfido. Ecco, è una roccia magmatica, vedete che ci sono dei pezzetti più visibili, vedi, dei cristalli immersi in una roba un po' più indefinita, cristalli immersi nella pasta di fondo. Sono, questo è porfido, più in generale le rocce che sono fatte un po' così, che hanno dei cristalli immersi nella parola di fondo, si chiamano porfiriche, cioè il porfido è porfirico. Il magma è magmatico, il porfido è porfirico, cioè vedete che la scienza è bella perché le parole tendono ad avere un senso. Allora, allora, a quel punto lì, no? Tu sei un pezzo di porfido, cioè devi essere più vivace, più vitale, più simpatico, anche più esagitato, che esista. A posto, cioè vuol dire se è arrivato, non puoi chiedere più alla vita, cioè e vissero tutti felici e contenti. No, perché la vita delle rocce è veramente impetuosa, tumultuosa, vorticosa e mai pace non ha. Può accadere che in tempi geologici, in tempi da roccia, la roccia si rinabissi, ripiombi nelle profondità della terra e sia sottoposta a un calore e una pressione sempre crescenti. È calore, calore, pressione, pressione, calore, calore, pressione, pressione. Un po' resiste la roccia, perché la roccia resiste, è resistente, ha tanta voglia di vivere, però calore, calore, pressione, 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 calore, calore, a un certo punto la roccia c'è, va più. muore. Come muore? Come muore la roccia? Muore nel senso metaforico, come la fattina dei cristalli? Muore, nel senso che rifonde, ridiventa magma, quindi se la roccia non è più una roccia, ridiventa magma, mi permetto di dire metaforicamente che muore. Però, una volta che la roccia è morta, è ridiventata magma, non è mica finita, lì uno dice finita stavolta, non è finita, perché la roccia ha una tale sete di vivere, una tale vitalità, vitalistica, una tale vivacità, una tale esuberanza, che non è mai finita. Il magma può risolidificare, quindi verrebbe da dire la roccia risorge, risorge la roccia, risorge, risorge dalle sue ceneri, come la fenice, no? La fenice che si brucia nel rovo, nel rogo, nel rogo del rovo, dalla stessa creata e poi risorge dalle sue ceneri. Risorge, ma è ancora più bella, più vitalistica e più complicata la cosa. Perché? Perché quando si dice che qualcuno o qualcosa risorge, si intende che riprende lo stesso corpo, il corpo vecchio, a vita nuova. Ma qui, al tornare in vita, si associa anche una trasformazione. Cioè, la roccia che si è solidificata dal magma, proveniente da una roccia precedente, non è uguale alla prima roccia. Questo per vari motivi. Un motivo intanto è che, come abbiamo detto, il tipo di roccia dipende anche dalla velocità di solidificazione, ma non è solo quello. Il fatto è che, essendo le rocce dei cocktails di minerali, ogni minerale ha la sua temperatura di fusione. Quindi, quando una roccia si fonde, non si fonde tutti insieme, i vari minerali non si fondono nella stessa proporzione in cui erano nella roccia iniziale. Capite? Quindi, poi la roccia nuova ha una composizione diversa. È un po' quello che succede. Può sembrare strano, ma se ci pensate, è un po' quello che succede col vino quando si distilla. Tu hai il vino. Lo scaldi, lo scaldi, lo scaldi, lo scaldi, lui muore, nel senso che evapora. Lo fai passare nei tuoi tubicini, nei tuoi alambicchi, dopodiché si raffredda e ritorna allo stato liquido. Ma quel liquido nuovo che hai ottenuto dal vino non è più vino. È vino distillato, quindi è, per esempio, cognac o armagnac o brandy. Capite? Ecco. Le rocce fanno così. Riturnano in vita modificate. Quindi si reincarnano. Si reincarnano risorgendo, risorgono, reincarnandosi. Insomma, una cosa particolarmente vitalistica, impetuosa e sorprendente come sono le rocce. Allora, la cosa interessante è che però in questa sequenza di resurrezioni o di reincarnazioni c'è una logica. C'è una logica. C'è un ordine. Allora vi faccio un esempio, per esempio. Vi racconto la storia delle prime rocce che siano formate su questo pianeta. Rocce magmatiche. Così si vede una sequenza di, come dire, reincarnazioni e resurrezioni. Vedete? È ancora più bella della Fenice. La Fenice risorge, no? Chi? Risorge reincarnandosi, trasformandosi. Bellissimo. Allora. 4,5 miliardi di anni fa. Bisogna andare a tempi geologici. La Terra è una massa incandescente. Però in quella materia infuocata qualcosa comincia lentamente a raffreddarsi e solidificarsi e cristallizzarsi. Quali sono le prime rocce? Anzi, qual è la primissima roccia? Beh, quali sono le prime rocce in generale? Sono le rocce che si formano mescolando i primi cristalli a formarsi, cioè i cristalli che si solidificano più in fretta. Bene. Fra questi c'è i minerali, i minerali che si solidificano più in fretta. Fra questi minerali c'è, per esempio, un minerale nerastro che si chiama pirosseno. Pirosseno, il nome, ha due componenti. Piro, che vuol dire fuoco, no? Come piromane, il maniaco incendiario, il maniaco del fuoco. E seno, che deriva da xeno, con la x, che vuol dire estraneo, alieno. Pirosseno, è alieno al fuoco, estraneo al fuoco. Si chiama così perché dopo un'eruzione vulcanica a volte si vedeva gallegare, nella lava ancora incandescente, dei pezzetti di roba nera, è estraneo al fuoco, è alieno al fuoco. Erano pezzetti di pirosseno, cioè un minerale che è fra i primi appunto a solidificarsi, quindi si solidifica addirittura stando immerso nella lava ancora incandescente. Oltre a questo c'era l'olivina, che è un altro minerale che si chiama così per un motivo molto semplice, ha il colore dell'oliva, è verdastro. L'olivina, quando è particolarmente pura, abbiamo detto che il minerale ha una sua formula chimica, una sua coerenza chimica, però possono esserci delle impurità. Ecco, quando è molto pura diventa una gemma, addirittura spesso le si dà un altro nome, peridoto, ma il peridoto è semplicemente un'olivina di alta qualità, un'olivina che puoi usare per fare... che è una gemma, che puoi considerare una gemma. Qui ci sarebbe ovviamente da fare una parentesi sulla differenza fra minerale e gemme, ma io, questo qui, passo la palla in questo caso, ha un canale meraviglioso, meraviglioso, canale YouTube e pagina Instagram, cioè, che si chiama Gemmologia per tutti, Gemmologia per tutti di Cristian Capuano. Io ve lo auguro, vi metto magari il link in descrizione così come vi metto il link del canale YouTube di Andrea Moccia. Gemmologia per tutti, lì vi spiega tutto la differenza fra gemme minerali, cos'è una gemma, le varie gemme, meraviglioso, ve lo seguite, ve lo seguite, cosa seguite su Instagram? Dai! Allora, dicevo, questi due minerali, pirosseno e olivina o peridoto, mescolati in un cocktail, formano una roccia nerastra che si chiama peridotite. La peridotite comincia a comporre la primissima crosta terrestre, solo che ha un problema. Il problema è che la peridotite è più densa del magma sottostante. Quindi cosa succede? Succede che si formano delle croste, si formano dei blocchi, ma poi questi blocchi si spezzano, si inabissano di nuovo, per ritornare a fondersi. Quindi la peridotite gradualmente muore e dalla peridotite morta, da quel magma risorgi, si reincarna un'altra cosa, un'altra roccia, il basalto. Il basalto è una roccia fatta di pirosseno, che è nero, e di plagioclasio, che è un minerale biancastro. Il basalto è grigioscuro. Ecco, il basalto è meno denso, è più leggero del magma sottostante, quindi anche della peridotite. E quindi emerge, sta su, cresce senza riaffondare, cresce, 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 si espande fino a che crea una crosta terrestre che copre completamente il globo. Questo accade subito, capito? Perché la peridotite si fonde, quindi arriva subito fuori, risorge subito il basalto. Subito, subito vuol dire, subito vuol dire dopo 50 milioni di anni dalla formazione della Terra, 100 milioni di anni al massimo, capito? La Terra viene coperta da una crosta di basalto. Attenzione che la stessa cosa, la stessa identica cosa, succede sugli altri pianeti rocciosi del sistema solare e su diversi satelliti. Per esempio Mercurio, il nero grigiastro Mercurio, è di quel colore perché ha una crosta di basalto. Il rosso Marte, ecco, per tutto è uno strato di ossido di ferro, cioè di ruggine, ma sotto c'è una crosta di basalto. L'acida Venere, a parte le sue atmosfere acide, ha anche lei una crosta di basalto. La luna, la luna argentata. Avete presente che la luna ha delle alture biancastre argentate, con delle parti più scure, i cosiddetti mari. Ecco, i cosiddetti mari, cosa sono? Basalto, crosta di basalto. E le parti chiare e argentate? Alcuni dicono, sono d'argento, alcuni dicono, sono di formaggio gruviera. Sono di anortosite. Comunque, comunque, questo lo vedremo un'altra volta. Anche la Terra, allora, aveva una crosta di basalto, solo che nella Terra è accaduta una cosa che non è accaduta né sulla Luna, né su Mercurio, né su Marte, né su Venere. La Terra è abbastanza vicina al Sole, è abbastanza grande da accumulare un enorme calore interno, un enorme, enorme calore interno. Eh, tutta coperta, tutta chiusa, tutta chiusa dalla crosta di basalto. Ha cominciato a crescere questo calore, a crescere, 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 finché è accaduto quello che sembrava impossibile, veramente impetuosa e vorticosa, la vita delle rocce. Il basalto, una parte del basalto, quella più interna. calore, 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 è morto. È morto. È morto del basalto. È morto del basalto ed è poi risorto, reincarnato in un'altra meravigliosa roccia che è il granito. Il granito che è questa roccia meravigliosa che si forma se la lava si solidifica molto lentamente ed è, come abbiamo detto, completamente fatta di cristalli. Un puzzle 3D, una Tetris di cristalli. Il granito è più leggero del basalto, meno denso del basalto, del magma sottostante, della Peridonite e quindi salì, 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 galleggiando sopra la crosta di basalto. E così sono nati su questo pianeta i continenti. I continenti sono enormi blocchi di granito che galleggiano sulla crosta di basalto che abbiamo in comune con Mercurio, con la Luna, con Marte. Ma nel sistema solare non ci sono altri continenti, sugli altri pianeti non ci sono continenti di granito. C'è voluta la grandezza della Terra perché si sviluppasse un calore tale da ammazzare il basalto. Il granito è la resurrezione e reincarnazione del basalto che a sua volta è la resurrezione e reincarnazione della Peridotite. Meraviglioso, 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 cioè che forza, che voglia di vivere, di risorgere, di sorgere, che capacità di non arrendersi alle avversità. A volte ti si spegne la voglia di vivere, vedi troppe difficoltà, anche questo periodo così difficile. Le vorresti rieprire, rifare, andare per il mondo, prigionare energia, ma no, ci sono limiti, no, è pericoloso, no, ci sono nuove leggi, ti devi chiudere in casa, allora aspetti, aspetti, poi un barlume di speranza, finalmente sì, ora ricomincerò, no, però nuove disillusioni, nuove delusioni ti aspettano e tu devi di nuovo però risorgere, risorgere, rinascere, riattivarti e quale guida più grande, più meravigliosa può esserci per te di questa continua, continua resurrezione, di questa straordinaria capacità di risorgere che hanno le rocce magmatiche. Ecco, basta, questo era prima o poi, insomma, era più o meno il primo racconto, la prima narrazione, quella sulle rocce magmatiche di questo ciclo, no, la vita esuberante delle pietre, prossima narrazione dovrebbe essere sulle rocce sedimentarie. Eh beh, eh no, le rocce sedimentarie, non sapete? Le rocce sedimentarie, hanno vinto tutto, vi sono piaciute le rocce magmatiche? Sì, ma non sa niente di confronto alle rocce sedimentarie, no, le rocce sedimentarie, no, guardate, parafrasando il meme, puoi essere fico quanto vuoi, ma non sarai mai fico quanto una roccia sedimentaria, ecco, basta. Vi saluto, alla prossima, infatti vi ricordate che c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel.